bene buongiorno buon pomeriggio decima lezione e prima di cominciare vi dico perché facciamo quello che facciamo oggi oggi cosa facciamo oggi introduciamo tutti quegli elementi in particolare introdurremo QObject, QWidget e i layout dove stanno e i layout se ci riusciamo sono tante slide ma sono un po' una lista di cose non è non c'è all'inizio ci sarà da capire qualcosa sul QObject ma sui widget e sul layout è un po' una specie di lista della spesa questa lista della spesa serve per arrivare a realizzare la nostra prima applicazione che è un po' lontana ma vi assicuro che ci arriveremo la prossima settimana realizzare un nostro notepad quindi prendendo anche ispirazione dai notepad esistenti realizzare una finestra che abbia un menu una barra degli strumenti delle tab quindi un notepad che consente anche di di gestire più di un documento alla volta gestire significa salvare salva col nome quindi ci sono finestre di dialogo ci sono pulsanti ci sono insomma icone menu scelte andu redo nuovo stampa ragazzi tutte le cose che uno si aspetta da un editor di testo per arrivare però a questo punto serve fare la lista della spesa quindi immaginate che ora noi andiamo sul mercato e andiamo a raccogliere tutte quelle cose che ci servono per realizzare la nostra prima interfaccia grafica questo sarà davvero la nostra prima interfaccia grafica perché consentitemi di dire che quello che abbiamo fatto fino ad ora fare l'hello world con pulsante insomma si è un hello world ma non è niente di concreto questo invece sarà la prima nostra vera applicazione grafica concreta bene una delle cose già l'abbiamo spiegata uno degli ingredienti uno di questi oggetti da comprare nella lista della spesa l'abbiamo spiegato ieri ed erano i segnali e gli slot ora vi dico una cosa che ieri non ho detto apposta per non spaventarvi ieri noi abbiamo introdotto la programmazione ad eventi sembra strano ma quello che abbiamo fatto io ve l'ho messa da un punto di vista di programmazione oggetti vi ho detto sarebbe bello nella programmazione oggetti se noi potessimo disaccoppiare le comunicazioni tra gli oggetti e allora introduciamo i segnali agli slot in maniera tale che quando un oggetto deve comunicare qualcosa lo comunica in realtà ad un universo se qualcun altro si mette in ascolto poi qualcun altro riceve il messaggio e lo stesso messaggio può essere captato anche da altri osservatori da altri oggetti ecco perché disaccoppiamento non c'è più l'oggetto a che manda un messaggio l'oggetto b ma c'è l'oggetto a che manda un messaggio e poi ci sono gli oggetti b c e d che catturano questo messaggio quindi in maniera completamente disaccoppiata questa cosa in realtà è un paradigma della programmazione ad eventi perché perché il segnale lo potete chiamare anche evento cioè evento cliccato è stato cliccato il pulsante e allora la programmazione ad eventi come funziona un ciclo infinito di attesa fin tanto che non si verifica un evento quindi gli oggetti che stanno in ascolto di questi segnali di questi eventi è come se stessero in un ciclo infinito che rimane in attesa che questi eventi questi segnali vengono emessi quando vengono emessi allora l'oggetto si risveglia ed elabora questo segnale questo evento quindi questa è programmazione ad eventi ok non l'ho chiamata così perché non volevo un attimo non volevo aggiungere questo ulteriore termine è una programmazione ad eventi però fatta ad un livello consentitemi di dire alto che significa alto cioè noi adesso lo vedremo quando faremo il notepad non ci sarà mai un momento in cui noi nel notepad emetteremo segnali perché ci fideremo dei segnali emessi dagli oggetti già predefiniti quindi dicevo che c'era qualcosa che non andava la programmazione eventi che noi abbiamo introdotto ieri è una programmazione che fa uso di cose già presenti nel linguaggio questi segnali sono un costrutto di astrazione che sta sopra i veri eventi quali sono i veri eventi? i veri eventi sono quelli del sistema operativo cioè il sistema operativo dice mouse si è mosso verso destra di XY mouse hai cliccato tastiera hai premuto questi sono gli eventi quelli che noi abbiamo fatto sono dei costrutti che sono stati creati sopra i veri eventi che discuteremo in una parte un po' più avanzata del corso che ci consentono però già di fare interfacce avanzate per fare interfacce ancora più avanzate ci serve introdurre gli eventi che vedremo non li vedremo oggi ovviamente li vedremo quando sarà una lezione un po' più avanzata ok ora qui c'è una slide che ho saltato che salterò anche oggi e quest'anno in questo corso noi ci imbattiamo ci scontriamo con delle soluzioni progettuali quindi parlo di ingegneria del software come ad esempio sono i segnali di slot i segnali di slot implementano sono una soluzione che implementa il design pattern observer cosa sono i design pattern? i design pattern sono soluzioni a problemi noti che sono stati scritti in base all'esperienza dei programmatori degli ultimi 50 anni in particolare il libro design pattern scritto dalla famosa gang of four sono quattro programmatori che avevano una grande enorme esperienza dove stanno sti gang of four beh il libro è questo si trova sia su amazon sia nei mercati diciamo paralleli in realtà ci sono anche i siti design patterns ci sono anche dei siti che si trovano su internet per esempio questo questo è un sito che vi consiglio refactoring.guru dove si trovano tutti i design pattern tra cui ci dovrebbe essere un design pattern observer che è proprio quello che noi abbiamo fatto l'abbiamo fatto senza accorgercene cioè il meccanismo di disaccoppiare la comunicazione tra gli oggetti in maniera tale che ci siano degli osservatori in attesa di segnali emessi da dei soggetti implementa un design pattern che si chiama observer ora io non voglio però spendere troppo tempo quest'anno su queste cose perché questi sono concetti di ingegnere del software però un giorno che voi farete ingegnere del software magari vi ricorderete che nel corso di tecniche di programmazione comunque voi indirettamente vi siete imbattuti in non solo questo non sarà il primo uno dei design pattern con cui ci imbatteremo in questo corso a che servono i design pattern? ragazzi come la bibbia sulla scrivania di ogni programmatore che si rispetti c'è un libro che si chiama design pattern oppure c'è questo sito negli preferiti e gli ingegneri del software questo fanno nella loro vita quando devono progettare l'architettura software che risolve un problema, una commessa anche per insomma clienti molto facoltosi industrie molto importanti non si risolve, non si ricrea la ruota un'altra volta e quindi cosa sono i design pattern? sono delle soluzioni già pronte già ci ha pensato qualcuno già le persone ci hanno sbattuto la testa quindi non dobbiamo essere noi di nuovo a riscoprire l'acqua calda, a riscoprire la ruota in questo caso il problema è come disaccoppio la comunicazione tra gli oggetti oddio, ma che devo fare? una classe statica, ci metto questo, poi quest'altro non ci dovete manco pensare la soluzione già c'è si chiama design pattern observer in Qt prende nome di signal slot in un altro framework prenderà il nome di listener in un altro framework ancora non lo so che prende nome però l'importante è che noi siamo indipendenti dal linguaggio ed è questo l'intento del design pattern soluzioni architetturali cioè indipendenti dal linguaggio, dal framework chi ha scritto questo libro è diventato ricco questi quattro sono programmatori, ex programmatori IBM Microsoft eccetera è un libro che si vende ancora oggi perché queste sono soluzioni che non hanno età per certi versi la ruota non ha età chi progetta una macchina deve comunque imbattersi sempre nel progetto di una ruota e ovviamente non è che la ruota la progetta da zero ci sono delle dinamiche di meccanica questo lo dovete chiedere ai vostri ingegneri meccanici che fanno sì che una ruota deve essere fatta in un certo modo per esempio una ruota deve essere cava dentro, deve avere una raggera queste cose qua insomma non ne so nemmeno io ovviamente di meccanica quindi giusto questa era una citazione di una cosa in cui ci siamo imbattuti ma non la spiego perché non mi interessa quest'anno farvi la insomma la spiegarvi troppo di una cosa che ha a che fare con l'ingegnere del software ok? quindi noi l'informatica non è a compartimenti stanni quindi è chiaro che noi stiamo sviluppando applicazioni complesse dotate di interfacce grafiche e quindi ci scontriamo anche con l'ingegnere del software però non ci compete non è in questo corso lo ne facciamo in genere del software bene l'esercizio ieri l'abbiamo sono un altro visto, commentato, svolto ogni esercizio c'aveva il suo CMC file ma in realtà come vi ho anche detto in classroom io vi fornisco un CMC file che già contiene tutto quello che vi serve in in examples base Qt5 c'è il template tra virgolette di progetto basato su Qt su cui voi iniziate a lavorare per le vostre applicazioni e questo c'è tutto quello che serve c'è il meta object compiler attivo il resource compiler attivo addirittura l'user interface compiler attivo se qualcuno di voi vuole usare le interfacce disegnate con il mouse anziché da codice e c'è un modulo Qt widgets perché tutti insomma tutte le interfacce grafiche utilizzano Qt widgets bene o male questa no perché questa non usa interfaccia questo esercizio che abbiamo visto ieri non aveva grafica quindi utilizzava soltanto il modulo base di Qt che è il core ma non vale la pena commentare il CMC che ormai l'abbiamo trattato avete il vostro CMC che ve l'ho dato per i vostri progetti non serve sapere altro ok quello che invece serve sapere oggi è qui che davvero inizia la lezione questo è uno degli ingredienti della lista della spesa che dobbiamo conoscere Qobject è alla base di Qt che significa che è la classe base da cui tutte le classi si diramano cioè se noi andassimo nel codice non lo so se ci riesco se noi andassimo nel codice vediamo un po' proviamo questo è un progetto di scacchi la scacchiera è una graphics view riesco a risalire attraverso le classi fino ad arrivare a Qobject mi sa che ho preteso un po' troppo rischio di perdermi c'è un include di Qobject quindi chiaramente l'indizio c'è vabbè ragazzi ho preteso troppo non voglio barellare fidatevi potete verificarlo però andando a seguire tutti i vari include tutte le varie ereditarietà che tutte le classi in Qt eccezione di pochissime classi ereditano da Qobject quindi Qobject è la classe base di tutte è la classe base quindi significa che implementa meccanismi comuni a tutte le classi derivate e Qobject siccome tutti ereditano da Qobject le regole che valgono per Qobject valgono per tutti i derivati quindi queste regole dobbiamo almeno conoscerle per esempio un oggetto della classe Qobject non può essere copiato ecco a programmazione oggetti vi hanno insegnato che esistono i costruttori di copia e i costruttori e l'operatore di assegnazione questi servono per fare la copia degli oggetti in Qt questi operatori e questi costruttori sono dichiarati private che significa dichiarati private che non li potete definire le classi derivate non li possono utilizzare e quindi non sono disabilitati questo significa è una scelta progettuale che significa che in Qt voi non potete fare la copia per esempio di un pulsante immaginate secondo voi perché non si può fare la copia è una risposta che vi potrebbe arrivare abbastanza intuitivamente parlando insomma perché non posso fare la copia quando ha a che fare con le interfacce grafiche perché fare la copia significherebbe fare la copia anche della grafica cioè se io ho una interfaccia fatta di tante icone se io copio la barra degli strumenti fatta di tutte quelle icone sto copiando anche le icone e quindi è uno spreco di memoria quindi più che copiare gli oggetti si possono riciclare cioè io posso per esempio vedremo che potremo mettere l'icona del salvataggio la possiamo mettere sia nella barra degli strumenti sia nel menu ma non è una copia non sarà un'icona si chiamerà q-action sta per q-action significa un pulsante cliccabile un po' diverso da q-push button è una specie di pulsante quello sarà condiviso sia dal menu che dalla barra degli strumenti ecco perché non si può copiare perché sarebbe uno spreco di risorse e l'interfaccia grafica non si può permettere di sprecare di duplicare le risorse poi dite addio ai template fino a un certo punto cioè la maggior parte di qt del framework di qt non usa classi template so che magari non piacciono a tutti cosa sono le classi template quelle con maggiore e minore che vi danno la possibilità di definire una classe in funzione di un tipo esterno definito in fase di compilazione perché in qt domanda per voi questa è una domanda di programmazione oggetti come mai in qt non posso usare classi template l'inizio che vi do è che in qt si usa la redditorietà e il polimorfismo in particolare e tutto qt come tutti i framework di interfacce grafiche sfrutta la programmazione oggetti ed in particolare il polimorfismo perché non posso usare i template perché i template non sono compatibili con il polimorfismo provate voi a fare una domanda su stack overflow come faccio a fare una classe polimorfica anche template vi sparano letteralmente vi chiudono il thread vi dicono non è studiato magari rimandano anche ad una discussione se sono gentili ma più delle volte vi sparano perché il polimorfismo se vi ricordate qualcosa di programmazione oggetti è risolto a runtime cioè a tempo di esecuzione da qualche parte c'è una tabella che fa sì che il metodo invocato su un oggetto non è necessariamente il metodo della super classe ma è il metodo di una delle classi derivate in funzione dell'identità di quell'oggetto cioè se quell'oggetto è una macchina è una macchina a una macchina a sei ruote macchina a sei ruote esistono sì la Tyrell in formula 1 ve la ricordate se sapete siete appassionati di formula 1 quella macchina ha le sue meccaniche le sue direttive significa che il metodo eseguito è quello dell'oggetto corrente nonostante io non sappia nemmeno qual è quell'oggetto che ho sotto banco ho soltanto il puntatore alla classe base e quindi serve una tabella di conversione questa cosa viene fatta a runtime nelle classi template invece si risolve tutto a compile time cioè a tempo di compilazione il compilatore sapete cosa fa se voi dite classe template in funzione di int va a pigliare tutte le volte che appare il tipo generico nella vostra classe template e ci mette int è proprio un copio e sostituisci un'altra volta perché alla fine questo fanno i compilatori sanno questo quello che fa nel caso dei template queste cose non sono compatibili con il polimorfismo perché il polimorfismo ha bisogno di risolvere il problema a runtime il template a compile time quindi la classe template pretenderebbe di sapere tutto ciò che si deve sapere a compile time ma non è possibile se questa è polimorfica vabbè probabilmente non mi avete seguito e questo preclude ha bisogno di una conoscenza approfondita di programmazione oggetti se non vi ricordate queste cose fidatevi che in Qt non ci sono classi template almeno salvo rari casi non ci sono non si usano voi non potete fare una classe che ne so non potete fare una classe Qpushbutton funzione di qualcosa ok quindi queste sono le regole ma allora cosa contiene Qt a noi che ci serve Qobject cosa ci serve in questa lista della spesa che ci è promesso quali sono gli strumenti che ci serve mettere nel carrello beh signal e slot sì l'abbiamo già fatto gli eventi un po' difficile lo faremo più in là però sappiamo che gli eventi vengono gestiti da signal e slot automaticamente quindi è come se noi già li stessimo gestendo ma ci fidiamo di segnare degli slot il parenting system che ora discutiamo e l'introspection che pure ora discutiamo questi sono i tre elementi che implementa Qobject signal slot è inutile che ci torniamo l'abbiamo già visto in particolare Qobject implementa il metodo connect e disconnect l'abbiamo visto ieri tra l'altro Qobject pur essendo un oggetto molto astratto un oggetto che cos'è Qobject è la base di tutti gli oggetti definisce comunque un segnale e questo segnale è il segnale di distruzione destroyed che viene automaticamente emesso dal distruttore di Qobject a che serve un segnale di tipo destroyed che ne so volete controllare che tutti gli oggetti siano stati distrutti catturate tutti i segnali destroyed se li catturate tutti se tutti emettono destroyed allora si distruggono certo capisco che non ha molta utilità questa cosa pratica però comunque è un controllo che noi abbiamo anche sulla distruzione degli oggetti poi ci sono gli eventi ma gli eventi è inutile che ne parliamo adesso ne parleremo quando faremo la parte un po' più avanzata poi c'è il parenting system cos'è il parenting system in due parole tre quattro parole e gestione automatica della memoria e questa è una buona notizia per voi ragazzi perché io all'inizio di queste slide vi ho detto che in tutti gli oggetti sono tipicamente allocati nel leap cioè sono variabili dinamiche c'è il new puntatore a Qpush button button uguale new Qpush button e allora immagino già la vostra paura caspita adesso ci sono di nuovo i puntatori ci sono di nuovo le allocazioni dinamiche e quindi mi devo ricordare di diallocare tutte le varie cose che io vado allocando no perché in Qt c'è un sistema di gestione automatica della memoria che significa gestione automatica che Qt adotta una gerarchia di elementi del resto alle interfacce grafiche sono gerarchiche una finestra una finestra contiene il menu la barra dei strumenti questa barra di tab e la barra di stato ma a sua volta il menu contiene altri menu e a sua loro volta i menu contengono altri menu fuori ad arrivare alle voci dei menu questo per quanto riguardava il menu la barra dei strumenti a sua volta contiene queste icone dei separatori e altre icone la barra dei tab a sua volta contiene diversi documenti che in questo caso sono aperti e il documento contiene diversi elementi contiene del test contiene una colonna con le indicazioni le linee i numeri di riga eccetera e la barra di stato contiene una serie di elementi per esempio in questo caso la lunghezza il numero di linee l'indicatore della linea corrente colonna corrente di selezione la codifica dei carriage return delle andate a capo la codifica del test utf8 in questo caso e se è no attivo il pulsante di inserimento avete capito che intendo per gerarchia la finestra contiene delle cose che a loro volta contengono delle cose che a loro volta contengono delle cose e allora qual è il trucco che hanno pensato i progettisti di Qt per non rendere la vita difficile ai programmatori visto che c'è questa gerarchia nell'interfaccia definiamo un sistema di gerarchia in cui c'è il padre e i figli il contenitore e il contenuto i contenuti a loro volta i contenuti cioè i figli possono essere a loro volta dei padri per altri figli e così via e così via e qual è il trucco il trucco è che quando viene distrutto un oggetto di Qt per esempio una finestra cioè quando ad esempio io chiudo il mio notepad automaticamente vengono invocati distruttori di tutti gli oggetti contenuti che a loro volta invocheranno i distruttori di tutti gli oggetti contenuti eccetera eccetera capito perché alla fine la gestione della memoria diventa automatica perché quando io chiudo o nascondo degli oggetti questi a loro volta dialogano non solo se stessi ma anche tutti quelli che sono dentro di loro quindi non è più necessario usare delete almeno se non in rarissimi casi basta distruggere la radice dell'albero cioè ad esempio una finestra di dialogo una finestra proprio eccetera tra l'altro notate che nell'interfaccia parlare di distruzione e costruzione è abbastanza relativo perché un'interfaccia quando parte tipicamente ha tutto quello che serve quindi non è una cosa in cui vengono distrutte create distrutte create delle cose tipicamente c'è già tutto quello che serve e quando l'applicazione viene chiusa si distrugge tutto quello che c'era quindi non è un ambiente diciamo molto dinamico se parliamo di un'applicazione di utilità se parliamo di un gioco idem dipende dal gioco sarebbe molto carino farvi un seminario su videogiochi quest'anno la vedo dura l'anno scorso feci un seminario sulla programmazione 3d quest'anno sarebbe stato carino fare un seminario sui videogiochi però senza farvi adesso questo seminario vi dico una cosa un segreto della programmazione dei videogiochi a voi vanno fatto una testa tanta giustamente sull'allocazione di allocazione delle variabili dinamiche che è anche giusto diciamo nel contesto didattico ma secondo voi in un vero videogioco un videogioco a un gioco parte e durante il gioco ci sono le allocazioni secondo voi durante un gioco avvengono tutte queste allocazioni e di allocazioni di memoria come magari uno penserebbe dai corsi precedenti anche da questo corso magari la risposta è no perché no perché l'allocazione di memoria è costosa in termini di tempo è una richiesta che uno fa al sistema operativo e il sistema operativo per soddisfare quella richiesta impiega del tempo va a cercare nella RAM uno spazio libero e se non lo trova perché magari la RAM è frammentata cioè magari io ho bisogno di un gigabyte di memoria ci devo mettere un sacco di texture del mio videogioco però io in quel momento ce l'ho i gigabyte libri di memoria però non ho un blocco intero di un gigabyte c'ho tanti bloccherelli sparsi per la memoria un po' come il disco frammentato cosa fa il sistema operativo? defragmenta la RAM sembra che sto dicendo una bestemmia anche la RAM ha problemi di frammentazione e immaginate quanto tempo ci mette il sistema operativo a dare quel blocco di un gigabyte se nel frattempo deve anche defragmentare la RAM immaginate che state giocando a GTA V o Red Red Redemption e aspettate quei 10-20 secondi perché state che ne so avete oltrepassato un confine non lo so adesso io non ho mai giocato davvero a Red Red Redemption purtroppo ho visto solo dei video però che ne so entrati in una locanda il gioco non si interrompe se voi entrate in una locanda correggetemi se sbaglio o si interrompe aspettate 20 secondi si interrompe? no non si interrompe una volta succedeva così una volta i giochi si interrompevano c'erano i caricamenti inter gioco cioè durante il gioco nei giochi non ci sono le allocazioni durante il gioco tipicamente quando un gioco parte parte che tutto quello che deve essere allocato è stato allocato quello che avviene avvengono delle ottimizzazioni a livello di trasferimenti nella GPU quello sì ma non è una cosa di allocare di allocare in continuazione altrimenti il gioco andrebbe davvero a scatti perché dipenderebbe dal sistema operativo e il sistema operativo le allocazioni di allocazioni non le fa velocemente bene quindi questo per dirvi che una interfaccia grafica in maniera simile a un videogioco non è un'applicazione da un punto di vista di allocazione della memoria così dinamica parte che tutto quello che bisogna allocare è stato allocato e quando finisce vi alloca tutto Super Mario è così i ragazzi che hanno fatto Super Mario gli anni scorsi e anche altri videogiochi nonostante il livello fosse lungo ci fosse anche un livello di sopra un livello di sotto loro quando partiva il gioco allocavano tutto creavano tutto quello che c'era da creare e basta quindi non vi preoccupate delle di allocazioni sia perché è tutto automatico ma sia perché non ci interessa davvero non in questo contesto quindi sì ottima domanda assolutamente sì se andassimo a vedere il Super Mario originale quello per il NES NES Nintendo Instantainment System assolutamente non viene allocato tutto quanto insieme in quel caso addirittura non tutto il livello quel gioco procedeva per schermate e nel passare da una schermata all'altra c'erano sicuramente bisogna togliere dalla memoria qualcosa e metterci qualcos'altro c'erano degli spostamenti più che delle allocazioni di allocazioni il NES come tutte le console di videogiochi aveva delle memorie dedicate alle sprite alle texture memorie dedicate ai suoni processore dedicato alle sprite processore dedicato ai suoni erano console dove i circuiti erano dedicati al gioco quindi anche a livello di architettura hardware non erano general purpose come i nostri computer oltre ad essere poco potenti erano proprio diversi non erano computer come i nostri attuali quindi la risposta è sicuramente non potevano permetterselo ma era proprio diversa la logica di funzionamento ok magari poi ne parliamo comunque sì ottima osservazione sì ce lo possiamo permettere ovviamente se andassimo indietro di 20 anni non credo proprio vi ricordate i giochi avevano i tempi di caricamento anche oggi i giochi hanno i caricamenti non tutti però sono sempre più rari mi viene da dire confermatevi voi che siete i giocatori più recenti di me quindi gestione della memoria parenting system ci pensa da solo anzi poi vedremo oggi se riusciamo a fare layout che non solo c'è questa gerarchia ma voi dite ok ma la gerarchia chi la crea la creiamo noi in maniera indiretta quando diciamo guarda finestra tu dentro c'hai una barra dei menu mettila là sopra c'hai una barra degli strumenti mettila qui c'hai questa barra dei tab dentro ogni tab metteci un documento quando noi diciamo come è fatta l'interfaccia in quel momento noi stiamo creando questa gerarchia quindi la gerarchia la creeremo noi però in maniera non del tutto esplicita poi vedremo come fare sì qui nella slide è detto che quando si crea si può usare il metodo set parent ma sinceramente non ho mai usato e mai l'ho visto usare questo metodo cos'è l'introspection invece allora l'introspection è è una funzionalità che hanno molti linguaggi molti hanno diversi linguaggi il cpp no non ce l'ha questa funzionalità è la possibilità introspezione significa vedersi dentro è la possibilità di un programma di conoscersi so che molte cose che dicono sembrano filosofia ma ragazzi l'informatica è molto molto vicina alla filosofia per esempio facciamo degli esempi altrimenti non ci capiamo se voi prendete uno dei vostri codici di programmazione oggetti voi siete in grado di chiedere all'oggetto di che classe cioè voi si nel codice scrivete ok io vedo la classe print il nome della classe ma no non intendo che voi scrivete intendo che proprio l'oggetto secondo voi è in grado di sapere di che classe oppure da che classe eredita oppure quali sono i suoi attributi un oggetto sa quali sono gli attributi della sua classe no tipicamente no non c'è questa capacità in qt c'è un attributo che hanno tutti i qobject che si chiama meta object meta object contiene tutte quelle informazioni relative alla classe per esempio il nome della classe la cosa eredita gli attributi quali sono i segnali di slot e poi ce n'è uno bellissimo che è questo sì che usiamo nella pratica quindi alla fine dovremmo sempre dire che cosa servono queste cose supponete supponete che ci sta un osservatore ricordate l'esempio di ieri colui che emette il segnale è il soggetto colui che riceve il segnale è l'osservatore supponete però che ci siano tanti soggetti che emettono segnali facciamo un esempio esempio pratico salvataggio ora chi è che emette l'azione di salvataggio potrebbe metterla questa icona qui o potrebbe metterla questa funzione qui del menu entrambe innescano il salvataggio però sono due cose diverse perché per esempio ci sta il salva il salva con nome cioè la funzione di salvataggio si deve rendere conto se chi vuole salvare vuole salvare un documento che non è mai stato salvato un documento che è stato salvato e quindi sappiamo dove salvarlo o un documento che salva con nome significa voglio salvarlo da un'altra parte rispetto a dove è stato già salvato quindi a volte c'è la necessità lo vedremo quando faremo il notepad di chiederci noi che siamo nello slot e abbiamo catturato questo segnale di salvataggio cliccato ma che tipo di segnale chi è che ha mandato quel messaggio l'ha mandato l'icona di salvataggio che sta nel menu quella che sta nella barra l'icona di salvataggio sei vas e quindi grazie all'introspezione noi possiamo chiederci chi è che ha mandato quel segnale cioè noi siamo nello slot e possiamo chiederci chi ha generato il segnale che noi slot abbiamo catturato quindi a questo punto si chiude il cerchio del disaccoppiamento di cui vi parlavo ieri non solo sono agnostici gli emettitori i ricevitori dei segnali ma seppure noi volessimo in qualche modo abbiamo la necessità di capire ma davvero chi è che ci ha mandato quel segnale possiamo ancora farlo quindi disaccoppiati sì ma possiamo comunque riformare questa congiunzione per un momento chiedere ma chi è che ci ha mandato quel segnale se tu ah se sei tu allora faccio questo se sei tu faccio quest'altro questo grazie al meccanismo di introspezione oggi lo useremo ci sarà un esempio adesso nel codice per mostrare questa cosa ragazzi QObject implementa tutte queste cose ma queste cose non sono C++ standard quindi ovviamente ci sta il MetaObject Compiler che deve generare un codice aderente allo standard del C++ quindi bisogna attivare il MetaObject Compiler in CMake e vabbè ragazzi uno lo tiene sempre attivo in CMake e risolve tutti i problemi l'unica cosa che bisogna ricordarsi è che qualunque oggetto che eredita da QObject deve contenere QObject in testa nella dichiarazione della classe quindi classe tal dei tali aperta prendesi graffa QObject e poi inizia con le sue sezioni private public signals slots quello che gli pare bene facciamo un esempio un esempio che usa un po' di un po' di un po' di cose che abbiamo detto allora l'esercizio propone di definire tre classi A, B e C che ereditano da QObject ciascuna di queste emette signal destroyed nel suo distruttore quindi la classe A così come la classe B così come la classe C sono tutte uguali cambia solo il nome della classe ereditano da QObject quindi hanno la macro QObject all'inizio hanno un costruttore di default che non non ci interessa se non nel fatto che i QObject siccome implementano il parenting system hanno nei costruttori il parametro chi è il mio padre di default è 0 quindi tipicamente noi lasciamo quello che ci dice la nostra super classe e poi c'è un distruttore il distruttore con la tilde che emette il segnale destroyed notate che questo segnale destroyed non l'ho dichiarato in una sezione signals perché i segnali si ereditano così come si ereditano i metodi pubblici ok quindi i segnali vengono ereditati siccome destroyed è definito nella classe QObject io posso emettere un segnale destroyed poi definire una classe destroyer notifier che è eredita da QObject tutti quanti ereditiamo da QObject questa classe anziché emettere segnali questo è una specie di osservatore quindi A, B e C sono gli emettitori destroyer è l'osservatore cosa fa? c'è uno slot che dovrà essere da qualcuno connesso con i segnali destroyed di A, B e C e stampa schermo il distruttore invocato e come fa stampare a schermo il distruttore invocato? cioè come fa destroyer che non sa se gli è arrivato un segnale da A da B o da C a stampare il distruttore guarda è stato distrutto l'oggetto A come fa a sapere qual è l'oggetto A? grazie al introspection quindi mi chiedo ma chi è che mi ha mandato questo segnale sei stato tu A allora sei tu che ti sta distruggendo e beh vediamolo destroyer notifier negli slots c'ha il metodo notify lo slot notify che verrà connesso vediamo dopo con il segnale di distruzione e cosa fa questo slot notify stampa il nome del distruttore dell'oggetto che ha inviato questo segnale ma siccome noi non sappiamo questo oggetto perché siamo destroyer notifier dobbiamo chiederlo all'introspection quindi Qobject mi dici chi è stato a mandarmi questo segnale adesso che tu mi dici che è stato io accedo al tuo meta object e quindi posso accedere alla tua nome della classe e questo mi dà il nome della classe dell'oggetto che ha inviato il segnale di distruzione il metodo Qobject ha un metodo di utilità che noi definiamo che significa io sono un notificatore di distruzione e ho un metodo io l'abbiamo scritto noi lo scriviamo questo è custom personalizzato che datogli un oggetto in ingresso lui si connette si mette in ascolto del suo segnale di distruzione quindi mi connetto io oggetto di destroyer notifier mi connetto al segnale destroyed dell'oggetto che mi viene passato in ingresso lo connetto in particolare al mio slot notify questo è al mio slot notify il main non farà altro che creare tre oggetti li crea sfruttando il parenting system per vedere come funziona la gerarchia quindi A senza padre quindi sarà il vertice B A come padre A quindi sotto di A C A come padre B e quindi sotto B e poi il distruzione notifier si mette in ascolto su A su B e su C senza spulciare nelle slide adesso cerchiamo di predire il comportamento di questo codice e poi c'è anche un delete per vedere un po' cosa succede con i distruttori ma non perché è necessario usarlo ma solo per dimostrazione allora ce l'abbiamo già scritto ragazzi questi sono codici che io non scrivo al momento perché dobbiamo arrivare a qualcosa di concreto il notepad lo scriviamo da zero proprio questi ragazzi sono dimostrazioni e signa slot destroyer intifier destroyer no come si chiama sta scritto nella slide come si chiama esercizio svolto acqua object giustamente q object q object bit intanto pensiamo al possibile output di questo programma allora ricapitoliamo abbiamo tre classi a b e c che non fanno altro che mettere un segnale destroyed quando vengono distrutte poi abbiamo uno spione questo spione ha uno slot notify che va a prendere il nome dell'oggetto che ha emesso quel segnale ha un metodo di utilità pubblico connect che si connette si mette in ascolto dei segnali destroyed di quell'oggetto connettendo quel segnale di quell'oggetto al proprio slot notify abbiamo un main che crea tre oggetti gerarchicamente a b c uno sotto l'altro e connette un notify uno spione lo mette in ascolto degli oggetti a b c e poi a un certo punto si distrugge solo a non ho distrutto ne b non ho distrutto nemmeno c ho solo distrutto a non so perché retorno 1 in c plus plus il main ritorno a 0 quando tutto va bene uno non è uno significa che qualcosa è molto storto vabbè queste sono cose del c qual è l'output atteso del programma l'unico oggetto che stampa cose a schermo è il notifier il notifier stampa tilde il nome della classe dell'oggetto che ha inviato il segnale quindi che cosa apparirà a schermo secondo voi senza guardare le slide se guardate le slide spoilerate pensateci ricordatevi che la distruzione è automatica distrutto il vertice vengono distrutti anche i figli allora se l'istoria notifier funziona questo stamperà i nomi degli istruttori però in che ordine i distruttori sono a b e c in che ordine li stamperà cba qualcun altro solo cba quali sono gli oggetti coinvolti nella distruzione è vero che ci sono cba ma ci sono altri oggetti ereditarietà se un oggetto è eredita da se classe base classe derivata e il distruttore della classe derivata viene invocato non viene invocato solo il suo ma anche quello della classe base vabbè abc però mi rendo conto che l'ordine in realtà dipende anche dal momento in cui vengono emessi questi segnali però guardate bene guardate bene non è che ha sbagliato è che bisogna saperne un po' di come funzionano gli istruttori il distruttore esegue prima le istruzioni in esso contenute e poi procede alla distruzione quindi nel momento in cui io faccio delete su A lui come prima cosa fa questo quindi il primo che emette il segnale di istruzione è proprio A infatti è A uno dice perché dopo non c'è invece B perché A quando si distrugge invoca anche il distruttore della superclasse l'istruttore della superclasse pure lui emette un segnale destroyed e quindi viene emesso il segnale destroyed e quindi Q object viene distrutto quindi questo significa A viene distrutto ma siccome A è un Q object anche Q object come distruttore viene invocato poi si procede a distruggere i suoi figli quindi B viene distrutto Q object perché B è un Q object poi C e poi Q object perché C è un Q object però mi rendo conto questo non è il vero ordine delle distruzioni perché in realtà ha ragione il vostro collega questo è l'ordine in cui vengono emessi i segnali ma in realtà la distruzione viene comunque ultimata dai figli fino a risalire alla sorgente quindi concettualmente lei ha ragione però i segnali vengono comunque emessi prima della distruzione quindi vediamo A, B, C però è vero che la distruzione dice per distrugger A devo prima distruggere B per distruggere B devo prima distruggere C distruggo C poi B poi A però i segnali vengono emessi subito come prima cosa ok comunque questo non voleva essere un esercizio di programmazione oggetti in cui il caso avrebbe ragione il suo collega ma soltanto un esercizio per vedere che l'introspection sta funzionando cioè che il nostro destroyer notifier non ha mai fatto menzione di A, B o C eppure è riuscito grazie all'introspection a risalire a chi ha mandato questi questi segnali bene niente di particolare quindi era più cattiva la domanda di programmazione oggetti che non il contenuto stesso di questo esercizio a livello di introspection ok quindi prossimo argomento finalmente grafica quindi finalmente abbandoniamo la linea di comando iniziamo a vedere qualcosa di grafica e ragazzi questo è davvero una lista della spesa quindi widget sta per window gadget sono elementi predefiniti della framework Qt mostrano dati quindi testi per testi immagini grafica 2D informazione di stato rispondo all'interazione dell'utente con il mouse con la tastiera anche col touch perché ci sono comunque dei dispositivi anche laptop che hanno schermo touch e c'è Qt risponde anche al touch sono dei contenitori per altri widget perché vi ho detto prima che un'interfaccia è una gerarchia il vertice della gerarchia è un widget che non ha un padre e quindi non avendo un padre diventa la finestra ed ecco perché nell'hello world col pulsante non avendo detto chi è il padre del pulsante di default il padre è 0 nullo quindi quel pulsante diventa tutta la finestra ecco perché nell'hello world la finestra e il pulsante sono la stessa cosa ok quanti widget ci sono ragazzi ce ne sono tantissimi ci stanno i pulsanti quindi i q push button quelli che si premono i radio button quelli che si scelgono le checkbox le caselle spuntabili ci sono le barre di progresso ora le vediamo questo non è una lista completa è importante però sapere che tutti gli elementi grafici ereditano dalla classe q widget quindi così come esistono i widget esiste la classe q widget e così come q object implementava aspetti comuni a tutti gli oggetti q widget implementa caratteristiche proprietà comuni a tutti gli elementi grafici quindi concetti di posizionamento concetti di dimensionamento concetti di interazione con il mouse concetti di tooltip sono quando il mouse rimane su una cosa che appare un testo di aiuto tutto quello che può essere in comune a tutti gli oggetti grafici ci sono dei setter setta o la dimensione fissa setta il carattere setta il testo di aiuto se il mouse ci passa getters tra l'altro in qt i setters sono con set come ci si aspetterebbe i getters non sono con get quindi se voi volete fare get di qualcosa dovete scrivere qualcosa senza get e lo trovate quindi volete il font font volete il size size eccetera anche slot comuni ci sono in tutti i widget quindi show mostrati nasconditi aggiornati mostrati lo usiamo quando dobbiamo mostrare una finestra per esempio nasconditi quando vogliamo nascondere una parte di o un'intera finestra o una parte di una interfaccia update quando per esempio stiamo facendo un videogioco e dobbiamo aggiornare la schermata di gioco stiamo facendo snake abbiamo disegnato il prossimo frame dobbiamo dirgli di fare l'update per mostrare il disegno effettuato e poi ci sono i gestori degli eventi ma questi dobbiamo ancora farli bene lista della spesa checkbox caselle spuntabili combo box menu a tendina l'hai visti? nella programmazione web ci sono spesso nei siti no menu a tendina spin box ragazzi questi sono termini uguali a tutti gli altri framework non è che qua si sono inventati esiste in java il java swing checkbox combo box eccetera quindi uguali in tutti questa nomenclatura è comune a tutti i framework spin box sono queste caselle dove voi non potete scrivere però potete selezionare aumentare o diminuire una quantità numerica tipicamente numerica label sono testo libero non editabile quindi label sta per etichetta cioè non deve essere un testo tipo multiparagrafo multilinea un testo che sta su una sola linea un'etichetta per esempio per esempio queste sono etichette etichette messe accanto a pulsanti eccetera line edit sono linee editabili cioè testo editabile in una linea quindi una piccola casella di testo poi ci sono i menu barre di progresso pulsanti pulsanti a scelta multipla caselle per la data e l'ora manopole slider i slider mi ricordano per esempio editing video o anche VLC c'è lo slider per 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 posizionarsi nel punto del video desiderato le toolbar sono le barre degli strumenti le tab le tab sono queste le tab penso che anche voi le chiamavate tab 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 non so come come pannelli come li chiamate scrollbar sono le barre di scorrimento cioè quando una cosa è troppo grande per essere contenuta nello schermo allora c'è una barra di scorrimento per muoversi come anche qui c'è una barra di scorrimento anche qui c'è una barra di scorrimento sono oggetti comuni a tutte le interfacce scrollarea è praticamente la scrollbar applicata ad un'area che contiene anche molte widget quindi una specie di scrollbar per contenitori text edit invece è proprio una casella di testo vera e propria questo potrebbe essere per esempio una text edit potrebbe essere tranquillamente questa tutta questa è una text edit cioè una casella che contiene molto testo più su più linee testo selezionabile tra l'altro qtext edit vi dà gratis il menu non tutto questo menu però vi dà la selezione del testo vi dà il click destro con taglia copia incolla seleziona tutto viene tutto a gratis con qtext edit poi ci sono viste viste di tipo albero per il file system viste di tipo calendario viste di tipo lista viste di tipo che è successo è certo che riprendi presentazione viste di tipo tabella per esempio se uno vuole realizzare un visualizzatore di database database tutte tabelle quindi tabelle viste di tipo web cioè addirittura c'è questo widget che vi mette a disposizione un browser quindi voi potreste potreste fare un'applicazione che dentro c'è pure un browser web certo non aspettatevi le performance di fare fox 85 e google chrome 96 però comunque è un browser che è decente che serve un browser perché magari state facendo un'applicazione di gestione del magazzino e si deve connettere ad un applicativo web però non volete che usi il browser suo il gestore e allora utilizzate il browser della piattaforma poi ci sono i questi più sono widget però sono widget contenitori per esempio cosa sta per questo questo sta per multiple multi desktop environment no multi desktop interaction non mi ricordo l'acronimo mdi per cosa sta però in sostanza ragazzi è quando voi avete un desktop virtuale dentro il cui si trovano finestre queste non sono finestre del sistema operativo sono finestre dentro il programma sono una specie di programmi dentro il programma un esempio pratico software cad che ne so autocad non l'avete mai usato quartus avete mai usato quartus l'elettronica digitale forse lo userete quando farete queste cose che dirvi photoshop avete mai usato photoshop winrar si anche winrar si si sono ok non voglio sapere perché comunque sono finestre che contengono altre finestre sono desktop virtuali e poi ci sono le doc le doc sono questo penso che l'avete visto in eclipse avete mai usato eclipse no perché usate giustamente il dev a fondamenti però ragazzi questo si usa tipicamente nei nei programmi di sviluppo per esempio gli ambienti di sviluppo come il suo studio voi avete la possibilità di spostare queste pannelli da una parte all'altra e vi dice dove metterli come metterli questo si può fare con doc widget poi ci sono delle widget predisposte per il rendering 3d per esempio l'anno scorso che abbiamo fatto lo snake 3d abbiamo usato una lo vede vedere lo sapevo non avevo dubbi che volevate vederlo visto che non lo vedrete altrimenti quest'anno ve lo faccio vedere adesso così vi dimostro anche che esiste questa qgl widget questo è il risultato di quello che abbiamo fatto in classe più in due sessioni pomeridiane da tre ore ciascuna molto lunghe più anche un ritocchino fatto a casa per ultimare alcune cosucce effettivamente eccola qua q opengl widget si chiama la widget da cui è reddita la finestra e il risultato è questo partirà non partirà sta compilando giustamente non aspettatevi niente di che eh ragazzi è fatto da zero senza motore grafico cioè da zero proprio opengl significa disegnare i poligoni disegnare i triangoli da zero il gioco deve partire siamo la testa dello snake abbiamo due viste una vista dall'alto e una vista dalla testa dello snake e questi sono i due occhietti solo per farsi i due occhietti bisogna fare tutto un discorso sulle sfere come renderizzare le sfere in triangoli è un casino e anche come fare questa cosa qui questa cosa che il punto di vista ruota in maniera questa è un'animazione sembra di no ma questa è un'animazione vabbè quindi e quindi e quindi niente e quindi io muoio se ovviamente se faccio questo muoio adesso insomma manco come si fa a far partire un nuovo gioco e vabbè quella è la coda per fare sta coda non vi dico proprio che fatica sta coda è fatta di tante sferette messe una presso all'altra di dimensioni diverse in maniera tale da formare questo specie di sonaglio mi rendo conto che non è bellissimo questo gioco queste sono caselle fatte con un gradiente di colore questi sono i frame e in realtà notate che se io barello il gioco pure non risponde bene perché perché sto bloccando il motore grafico perché non ha un motore grafico quindi se io gioco col mouse sto sto dando fastidio al sto dando fastidio al rendering grafico questa cosa qui quanto codice ci sta qua no magari con le leather ci stanno 600 righe di codice più altre 300 1000 righe di codice però ragazzi qui stiamo parlando di disegno di disegno di di quadrilateri di triangoli cioè qua si disegnano proprio le facce del con cui sono fatti oggetti 3d non è disegna sfera come in cutie no in cutie diciamo disegna disegno inquadrato disegna un cerchio disegnano lisse qui disegnano triangoli e quadrilateri in opengl è a basso bassissimo livello qua manca unity ovviamente in unity questa cosa si faceva molto molto prima vabbè scusate la parentesi me l'avete chiesto voi ovvio ho soddisfatto la vostra curiosità questo dimostra che potete anche implementare un widget che fa vedere delle cose in 3d però dovete poi programmare in opengl quindi implementare vertex shader cose lasciamo stare complesse che se volete ci sono delle slide però non faccio seminari su programmazione 3d non quest'anno non è possibile quest'anno perché quelle sono cose da fare in classe c'è molta interazione non ho proprio tempo di farlo in classe quest'anno bene quindi per non dimenticare questa è la lista della spesa che abbiamo visto ma c'è poco da fare ragazzi quando serve qualcosa uno va a prendere e mette nel carrello quello che gli serve c'è un hello widget simile all'hello word che abbiamo visto prima ma è una permettete di dire che è una cavolata cioè praticamente è un metodo della classe Qiloader un metodo creazionale che se voi passate il nome della classe per esempio QpushButton lui crea al volo un QpushButton cioè questo ragazzi sta proprio qua si vede proprio l'introspection cioè io posso creare al runtime un oggetto di una classe il cui nome viene specificato dall'utente cioè una cosa dell'altro mondo tipicamente uno specifica nel codice il nome di un oggetto il nome della classe di un oggetto qui invece stiamo dicendo che lo specifica l'utente quindi insomma un altro mondo ok però non mi piace fare questo esempio perché crea un pulsante senza testo senza icone si capisce niente ok fino adesso ho solvolato su un aspetto fondamentale cioè quando noi creiamo questi widget qual è il loro aspetto grafico in realtà l'ho già detto in un'altra lezione però adesso ve lo ricordo l'aspetto grafico è quello della piattaforma ospitante quindi se siamo su windows 10 la grafica è quella di windows 10 se siamo su mac os ed in mac os se siamo su un linux kde ed i kde su un linux con gnome gestore grafico quindi ubuntu sarà un gnome eccetera quindi o ci fidiamo di quello che Qt decide per noi e Qt deciderà di rendere la grafica coerente con il sistema operativo perché a nessun utente piace aprire un programma su windows e trovarsi la grafica di linux o di mac almeno è un attimo sbarrellante la cosa però volendo è possibile anche forzare questa grafica quindi voi potreste dire io su windows voglio la grafica di linux su linux voglio la grafica di windows certo insomma se voi date a un linuxiano un programma che appare come appare su windows penso si arrabbia non potete però usare lo stile del mac perché lo stile del mac è proprietario te pareva quindi non potete usare in un'applicazione windows dire voglio usare lo stile del mac quindi esistono degli stili sono degli oggetti delle classi che si possono settare con set ma non tutti gli stili sono disponibili su tutte le piattaforme cioè se siete su mac potete usare lo stile del mac se siete su linux o no perché il mac ha le sue regole le sue proprietà intellettuali non consente di far apparire una grafica simile a mac su una piattaforma che non è macOS però è possibile anziché utilizzare gli stili predefiniti nella piattaforma definirsi proprio stile e si usano i css il css è un linguaggio sta per cascaded style sheet è il linguaggio con cui sono fatti i siti web le applicazioni web cioè la grafica di un sito web quello dice mazza quanto è figo questo sito è fatto in css tutti sono fatti in css css si occupa della grafica html si occupa del cosa c'è del cosa e javascript si occupa del come come regisce l'interazione più altri linguaggi ovviamente il css è un linguaggio fantastico quindi a parte questo sito che avrà un suo foglio di stile che uno potrebbe anche andare a vedere andando nell'ispezionamento del codice da qualche parte eccolo qua questo è codice css che ci dice come è fatto questa grafica di questa pagina però questo esempio non è tanto carino è molto carino invece questo qua simpson's css qualcuno si è preso la briga di realizzare i simpson in css e questo è il risultato cioè questo che vedete ragazzi css è un linguaggio in cui si disegnano primitive quindi cerchi ellissi rettangoli segmenti quindi queste non sono texture ragazzi questa è grafica vettoriale cioè voi potete zoomare all'infinito e avrete ancora il vostro cerchio la vostra pupilla eccetera perché css è un linguaggio che usa primitivi di disegno non sono texture non sono immagini queste c'è qualcuno che si è messo a fare i simpson si vede qualche artefatto perché ovviamente il css con il css non si può fare tutto cioè non posso fare la monalisa con il css e quindi si vedono comunque degli artefatti di disegno per esempio questa curva di questo collo di smithers è fatta con un ellisse di cui si vede si intravede una parte che nel tentativo di cancellarla probabilmente chi ha scritto il css non c'è riuscito non è detto che ne sia impossibile ma non c'è non c'è riuscito e vabbè uno va a vedere il css di homer e si studia tutte le 583 righe di codice che a livello di primitive di grafica disegnano tutta la pelata la barba di homer eccetera eccetera vi interessa? bene tutto questo per dire perché vi ho fatto questo esempio perché se noi col css riusciamo a fare tutti i siti web del mondo compresi anche i simson animati è evidente che col css noi possiamo fare la nostra applicazione grafica quindi volete la grafica del mac? scrivetevi un foglio di stile che implementa la grafica del mac certo dovete mettervi lì con la lente di ingrandimento per capire che qua ci sta un gradiente tra l'altro questa è la grafica del mac os vecchio uno ci si mette e riesce a fare queste cose oppure c'è un terzo metodo per personalizzare la grafica che è quello di dire direttamente c'è un metodo che viene invocato quando un oggetto grafico viene mostrato a schermo questo metodo si chiama paint event e dentro questo metodo se noi stiamo ridefinendo la classe se ci mettiamo zero vuoto completamente l'oggetto non si disegna quindi noi là dentro possiamo metterci tutto quello che ci pare infatti noi così faremo per lo snake il nostro snake sarà un qwidget in cui il paint event lo scriviamo noi e che ci scriviamo dentro il paint event e ci scriviamo disegna uno sfondo giallo non lo so quello del nokia era giallo e disegna tanti rettangolini quanti sono quelli dello snake e disegna poi il cibo come un pallino eccetera eccetera quindi questo è un terzo modo con cui si può personalizzare la grafica di un gioco voi dite il super mario lo faremo così lo faremo non lo faremo il pacman no no quando le cose si fanno molto complesse disegnarle da zero è come darsi la mazza sui piedi si usano anche in quel caso dei framework tipo unity qt mette a disposizione un piccolissimo framework chiamato qgraphics view framework che serve per fare rendering in 2d in maniera un po' più agevole quindi in quel caso ci si programma super mario ci si programma pacman certo si sarebbe potuto fare da zero con il point event ma sarebbe stato da folli farlo ok bene quindi quindi adesso siamo pronti per vedere il vero hello world di qt perché fino adesso erano degli hello world impropri un hello world in qt in un'interfaccia grafica è tale in cui voi create una classe finestra e la mostrate invece prima c'era un pulsante nel main che se io non gli davo il parent diventava una finestra però il pulsante occupava tutta la dimensione tutto lo spazio quindi se vogliamo fare il vero hello world il vero primo hello world è una classe che io chiamo my window e tutti i vostri progetti avranno una classe di questo tipo una classe che è il contenitore principale della vostra applicazione molto spesso questa classe è riditerata qwidget perché magari deve avere delle cose di base ma il resto ce lo mettete voi ad esempio lo snack che ce lo mettete voi e deve qua contenere tutti gli elementi della grafica per esempio il nostro notepad sarà un qwidget che avrà il menu sopra la barra dei menu tutti i pulsanti e quindi qua avrà le classi delle finestre tipicamente hanno una pletora di oggetti perché sono tutti quelli che ci stanno dentro la finestra e poi il costruttore che ovviamente di default prende parent nullo che significa che questo è una finestra se fosse contenuto in un'altra cosa non sarebbe più una finestra quindi questo è l'header molto semplice sono 12 righe di codice ma con un sacco di spazi vuoti nel cpp si ricorda si definisce come parent zero quindi questa è una finestra si crea un pulsante un pulsante con testo close e icona quella che prendo da la sistema delle risorse notate che adesso usiamo il parenting system cioè quando creiamo un oggetto opzionalmente gli possiamo dire chi è il suo padre ora siccome noi siamo una finestra noi saremo praticamente i padri di tutti quindi ogni oggetto che creiamo qua diciamo che noi siamo suo padre il secondo elemento il primo elemento del costruttore è il testo il secondo nel caso del push button ma ve lo suggerisce anche l'ambiente di sviluppo vi dice ma chi è il parent e sono io il parent sono io la finestra bene poi c'è una connessione la connessione avviene tra il segnale click ed il pulsante sappiamo che push button implementano il segnale click ed e lo slot quit della applicazione ora però c'è una differenza sostanziale nelle low world 3 l'applicazione noi ce l'avevamo nel main quindi era ovvio dire lo slot è dell'applicazione apposta qua stava questa variabile sta più sopra ma qui l'applicazione io non ce l'ho definita da qualche parte e allora dove la prendo la prendo attraverso un altro design pattern vedete come ci sbattiamo la testa ogni momento è un design partner che si chiama singleton che oggi non vi spiego ve lo spiegherò un giorno se vi servirà se ci servirà che significa singleton sono delle classi che hanno una sola istanza singleton una sola istanza che significa che se quella classe può avere soltanto un oggetto allora se ho bisogno di quell'oggetto lo posso chiedere alla classe ecco la novità dove sta quindi l'applicazione di Qt è una una sola può essere l'applicazione certo nel sistema operativo in quel momento ci possono essere tante applicazioni ma io che ho lanciato questo eseguibile l'eseguibile può essere una sola applicazione quindi chiedo alla classe Qapplication qual è il tuo oggetto visto che tu sei un singleton instance serve per dire qual è la tua unica istanza Qapplication me la restituisce quindi voi in qualunque punto del codice potete accedere alla applicazione l'oggetto Qapplication che serve per chiudere sostanzialmente tutto l'accrocchio che stiamo facendo o per metterlo in pausa o per minimizzarlo serve per avere un controllo proprio della applicazione che stiamo sviluppando quindi connetto click di button con lo slot quit dell'applicazione poi ci metto un dimensionamento della finestra fisso 100% significa che l'utente non potrà ridimensionare la finestra e a questo punto finalmente il main diventa quello che è per tutti quanti i programmi powerpoint red red redemption tutti i programmi fatti in c++ tra l'altro la suite office è fatta in c++ uno dice i programmi microsoft sono fatti in c sharp sì è vero ma quando le cose si fanno dure flight simulator office c++ office è interamente fatto in c++ tutti questi programmi hanno un main di tre righe predisponi quello che c'è da predisporre l'applicazione in questo caso carica tutto quello che serve per caricare ciclo degli eventi cose che vedremo magari più in là in maniera più specifica poi devo creare la finestra principale ciò da cui parte l'applicazione e la devo mostrare e poi devo far partire proprio l'applicazione che avevo prima predisposto tutti i main di tutti i programmi di tutti i framework programmi fatti in c++ tipicamente sono così quindi adesso questo è il vero hello world andiamolo ad eseguire e a commentare lo stai lo chiuso vedete quanto tempo ci abbiamo messo per arrivare al vero hello world hello world 4 hello world 4 build e capitoliamo abbiamo un main molto semplice che crea un'applicazione e poi la esegue nel mezzo crea una finestra e la mostra questa finestra è una finestra molto banale generica che è reddita la qwidget e nel suo costruttore ovviamente setta il suo parent a zero così adesso sì che diventa una finestra crea un pulsante contesto close e parent this vedete ci avrebbe suggerito il sistema l'ambiente di sviluppo ci avrebbe suggerito che il secondo argomento è il parent setta un'icona e fa la connessione con l'applicazione e setta il dimensionamento 100% quindi mi verrebbe da dire che la nostra finestra sarà quadrata e piccola la nostra finestra è quadrata e piccola e l'utente non può ridimensionare non può ridimensionare l'oggetto la finestra il pulsante close adesso non occupa più tutta la finestra perché il pulsante close adesso ha le sue regole di dimensionamento che noi non abbiamo specificato se noi non le specifichiamo Qt cosa fa? prende l'icona con la sua dimensione prende il testo li metti vicine e ci fa un riquadro che è il più piccolo possibile per contenere questa roba quindi il pulsante è quello che è funziona ovviamente perché l'ho connesso ma non è più tutta la finestra ovviamente questa cosa uno la può fare grande a piacimento quindi non è che cambia molto cambia che adesso è un quadrato più grande ma di nuovo io non posso estenderla non posso ridimensionarla e il pulsante sta sempre in alto a sinistra ecco questa è una cosa che ci consente di passare al prossimo argomento intanto elimino il dimensionamento fisso per dimostrarvi che era quello che manteneva rendeva impossibile il dimensionamento della finestra ma una cosa che notate è che qualunque cosa io faccio quel pulsante starà sempre in alto a sinistra e questo ci porta al prossimo argomento non questo ovvero questo se io creo tutte le componenti di un'interfaccia grafica e non dico nient'altro queste componenti verranno messe in alto a sinistra sinistra per voi è questa quindi nell'origine del sistema di riferimento quindi Qt e non solo Qt ha un sistema di riferimento con origine in alto a sinistra asse orizzontale verso destra asse verticale verso il basso ma ragazzi questo è importante perché per esempio i videogiochi che sono basati su OpenGL e su DirectX o su Vulcan a seconda delle hanno un sistema di riferimento dove la Y è verso l'alto e quindi questo succedeva che quando avevamo fatto la cosa dello Snake con i ragazzi era tutto specchiato perché ci siamo dimenticati che il sistema di riferimento di Qt è verso il basso verticale di OpenGL era verso l'alto e quindi vabbè poi ce ne siamo accorti però è stata una fonte di panico temporaneo quindi il problema tutti gli oggetti vengono messi in alto a sinistra con dimensioni di default che decide Qt per noi ci piace questa cosa? ovviamente no allora la soluzione scommetto che vabbè qual è il problema? decido dove mettere io i componenti cioè decido la coordinata dove mettere i componenti quindi magari il pulsante close lo metto a 1010 il pulsante questo qua lo metto a 40 in verticale e 60 in orizzontale vi piace questa soluzione? che per ogni elemento dovete dire le coordinate X e Y ammazza questo sembra quasi essere tornati ai tempi delle medie in cui facevamo con righello le cose sul foglio quadrato bene in effetti è così che è stato fatto Super Mario Super Mario è stato realizzato su un foglio di carta con millimetrata con i quadrati però noi non stiamo facendo una cosa fissa cioè le interfacce grafiche per loro natura sono dinamiche non sono come il gioco di Super Mario sono qualcosa che l'utente può ridisporre vedete io vado a sinistra questo menu torno a capo ok quando io rendo più piccolo questa finestra cos'è che diventa più piccolo? non tutti gli elementi ma solamente quello centrale cioè se io la faccio diventare più più corta verticalmente la barra di stato rimane quella che è il menu rimane quello che è la barra degli strumenti rimane quello che è quello che cambia è questo contenuto quindi ci sono delle politiche di dimensionamento che oggi stiamo noi in maniera esplicita ed è un bel casino oppure ci fidiamo di qualcun altro che lo fa al posto nostro e questo qualcun altro sono i layout manager quindi i layout manager sono uno strumento che vi aiuta non è che vi sto dando un'altra complicazione è un altro degli elementi della lista della spesa che problemi risolve? risolve il problema che l'applicazione si deve adattare allo schermo in cui sta girando immaginate che state sviluppando un'app per smartphone e ci sta l'iPhone grosso l'iPhone grosso le fa ancora più grosso lo vedete scottex nessuno di voi segue Sio che tristezza Sio scottex scottex fa tante cose è una satira non senza fa recensione degli iPhone in maniera ovviamente ironica e dice iPhone grosso poi è stato proposto quello più grosso e poi quello ancora più grosso questo per dire che questi smartphone una volta sono piccini poi sono più allungati poi ancora più allungati un po' più larghi questi schermi non sono sempre uguali ovviamente sia degli smartphone sia dei laptop e quindi le nostre applicazioni si devono un po' adattare allo spazio che è disponibile su quello schermo questo adattamento per avvenire in maniera automatica bisogna usare degli strumenti che gestiscono lo spazio in maniera ottimale questi strumenti sono i layout e i layout ci sono ovunque non solo di nuovo in Qt in Qt esiste una classe base che si chiama Qlayout da cui tutti i layout derivano vengono ereditati come funzionano i layout i layout hanno due metodi importanti che dobbiamo ricordarci quando faremo il notepad tra l'altro questa cosa la facciamo un layout ad un layout noi aggiungiamo un elemento per dire tu layout d'ora in poi sarai il responsabile di questo elemento che io ti sto dando ti sto consegnando le chiavi di questo elemento immaginate layout anche come dei contenitori non solo come dei gestori anche come dei contenitori quindi a questo layout io aggiungo questo widget per dire adesso ci pensi tu a mettere questo widget lo devi mettere secondo le tue regole esisterà il layout che divide orizzontalmente quello che divide verticalmente quello che divide in celle quello che divide con una certa proporzione i layout hanno le loro regole e noi consegniamo ai layout questi widget però il layout essendo un contenitore va installato su un pannello cioè ok questo layout gestisce i suoi figli i suoi i suoi widget però questo layout ha bisogno di essere installato su per esempio una finestra ok e questo si fa con il set layout quindi set layout significa tu widget io adesso ti do un layout manager cioè adesso tu widget tramite questo layout manager saprai disporre tutti gli elementi che questo layout conterrà quindi questo è il padre questo è l'intermediario e questi sono i figli questa è la relazione gerarchica ed ecco che torna il parenting system nel momento in cui noi facciamo add widget ad un layout e poi questo layout lo installiamo su un pannello questi diventano figli di questo in maniera del tutto automatica ed ecco perché non dobbiamo noi nel costruttore ricordarci che ci sta il parametro parent che se sentiamo zero alla finestra altrimenti gli dobbiamo dare il puntatore l'indirizzo del contenitore no se usate layout tutto viene automaticamente cosa significa tutto viene automaticamente il posizionamento nello spazio il dimensionamento cioè se la finestra si fa più piccola la riorganizzazione per esempio il menu va a capo viene tagliato eccetera eccetera e poi anche il parenting system un layout non è un widget un layout è un organizzatore di widget quindi vabbè quando noi diciamo widget ti do ad un layout widget non diventa figlio del layout ma come vi ho detto prima diventa figlio del widget su cui quel layout viene installato questo è quello che ho detto prima il parenting system l'ho già detto è possibile anche innestare un layout in un altro layout siccome sono come contenitori immaginate una matrioska un layout più grande può contenere due layout più piccoli assolutamente sì e anche in questo caso il parenting è automatico ok vediamo la lista della spesa devo mettere delle cose in verticale qv box layout vertical box layout i layout hanno di default dei margini quindi mettere le cose in verticale significa anche lasciare uno spazio tra due elementi successivi come significa anche lasciare un margine esterno rispetto al contenitore se la finestra rispetto al bordo della finestra quindi vertical box layout horizontal box layout grid layout perché magari è una suddivisione a griglia in cui questo pulsante occupa la cella 1 1 questo occupa la cella riga 1 colonna 2 questo occupa la cella riga 2 colonne 1 e 2 quindi potete fare ragazzi con queste semplici cose potete fare veramente qualunque tipo di disposizione grafica poi ci sono dei layout di utilità per esempio il form layout serve per realizzare le cosa sono le form sono le i pannelli dove gli utenti inseriscono i dati nome cognome indirizzo eccetera e siccome è ripetitivo allora form layout dice ok dammi i campi di sinistra e dammi i campi di destra io te li metto uno accanto all'altro riga per riga questa in sostanza è una riga 2x2 in cui però la seconda colonna è più lunga più grande larga della prima esempio vediamo nel codice questa cosa come si traduce abbiamo un widget generico quindi è un pannello vuoto così un widget è un pannello vuoto se non ci mettete niente se non ci mettete dentro niente lo rendete finestra è una finestra con dentro non c'ha assolutamente niente quindi è una tavola bianca tavola rasa creo tre pulsanti 1 2 e 3 creo un layout e dico a questo layout che tu layout d'ora in poi devi gestirmi il pulsante 1 il pulsante 2 e il pulsante 3 come li devi gestire? e beh tu sei un vbox layout quindi li gestirà mettendoli verticalmente con un certo margine margine che si può cambiare noi al layout possiamo dirgli set margin set possiamo cambiare tutte le cose che vogliamo una volta che il layout ha tutti i suoi elementi possiamo dire alla finestra where tu finestra d'ora in poi avrai questo layout manager questo layout manager avrà questi elementi contenuti quindi questi diventeranno figli di questo e quindi la finestra adesso è una gerarchia fatta di finestra e pulsanti fine a me certo costruito di poi sembra tutto semplice però vi assicuro per esperienza io ho visto anche il layout manager di altri framework per esempio c'è uno famoso di javaswing che si chiama grid bag layout è famosissimo cercate la parola grid bag layout grid bag grid bag layout java grid bag layout e troverete se andate a spulciare bene in tutte le tra l'altro già la domanda la dice lunga troverete una serie di bestemmi dei programmatori che dicono che questo layout fa davvero pena in effetti è uno dei layout manager peggio progettati nella storia a meno a parere non solo mio ma anche di altri programmatori invece questi layout fatti da tutti devo dire che sono molto semplici e eleganti da utilizzare e se fosse stato un hbox layout cosa sarebbe cambiato secondo voi nel codice che sarebbe cambiato a posto di v h molto semplice e ovviamente i pulsanti anziché verticalmente sarebbero stati disposti orizzontalmente e se invece il layout è un po' più complesso è una griglia beh sicuramente devo cambiare il nome del layout e cambia anche il modo in cui aggiungo l'elemento al layout perché adesso non basta dire tieni prendi il pulsante 1 no è una griglia devo dirgli anche dove mettere il pulsante 1 quindi l'indice di riga l'indice di colonna quante righe occupa quante colonne occupa quindi il pulsante 1 è 0 0 e di default occupa 1 e 1 se non specificare niente significa che occupa una cella quindi la cella 0 0 1 pulsante 2 la cella la riga 0 colonna 1 una cella pulsante 3 la cella alla riga 1 colonna 0 ma occupa una riga e due colonne ed ecco che quindi vedrete che il pulsante 3 occupa due volte i pulsanti 1 e 2 ok anche qui non c'è una grande complessità è questione di usare una volta e lo capite subito il Qform Layout è ancora più semplice perché ci stanno un sacco di elementi qua rispetto a prima perché ci sta un pulsante una line edit un altro pulsante un'altra line edit un altro pulsante un'altra line edit il layout è Qform Layout che anziché dire add widget si va direttamente riga per riga perché si sa che ogni riga contiene due campi il campo di sinistra e il campo di destra quindi button line edit button line edit button line edit di nuovo non c'è molto più altro da dire altri layout per esempio ci sta sono molto carine nelle interfacce grafiche questi queste cornici accanto sembrano sembrano cornici di un pannello in realtà quello è un layout si chiama Qgroupbox e basta dire è come qui Qgroupbox Layout uguale New Qgroupbox e poi Groupbox il nome del layout add widget in quel caso ci mettete quello che c'è qui e quello che sarà dentro il layout verrà inserito dentro una cornice che avrà il nome che voi gli date quando create quel layout un Qgroupbox ha anche un nome Qgroupbox stringa quello che appare come nome del layout poi ci sono gli stack del layout gli stack del layout sono un po' più sofisticati è raro che li utilizzate nelle vostre applicazioni se vi imbattete ne parliamo ma comunque ragazzi Qt io vi consiglio la documentazione date una spruzzata perché non è male come scritta magari qualche cosa gli studenti su qualcosa si sono lamentati soprattutto cose sulle animazioni più complesse ma mi sento di dire che comunque Qt più parole vedete più significa che comunque vi sta aiutando quindi la documentazione contiene una spiegazione di come si utilizza con esempi svolti quello strumento lo splitter lo useremo quando ci sarà una lezione in cui useremo lo splitter ed è molto carino lo splitter perché lo splitter divide lo schermo in due parti però dà all'utente la possibilità di decidere qual è il rapporto tra queste due parti si vede soprattutto nei client email in cui voi avete la parte di sinistra in realtà anche penso che anche questo si possa anche questo è uno splitter vedete questa parte dello schermo è divisa in due ma non è divisa in due in maniera statica ma c'è la possibilità di decidere quanto deve essere grande l'una o l'altra quando noi abbiamo bisogno di più regioni non solo due basta innestare uno splitter in un altro splitter cioè io ho quest'area la divido in due con questo splitter orizzontale e poi quest'area qua la divido in due con un altro splitter verticale e quindi capite che combinando questi layout manager non solo lo splitter ma anche i precedenti uno insomma il limite è solo la fantasia può creare tutte le possibili cioè se voi mi dite com'è fatta questa interfaccia io ho il layout ne so prendo il client di email prendo il browser qualunque altra applicazione io vi dico com'è fatta più o meno quindi definiti questi layout manager si possono realizzare tutte le possibili combinazioni e quindi tutte le possibili interfacce i layout hanno degli attributi come vi dicevo hanno i margini c'è la possibilità anche di inserire se voi volete uno spazio vuoto state facendo un Vbox layout e non vi accontentate del margine volete proprio che tra un elemento ed un altro ci sia uno spazio vuoto beh potete inserire un un add spacing cioè potete dire aggiungi questo widget aggiungi quest'altro widget aggiungi uno spazio vuoto aggiungi un altro widget quindi potete anche aggiungere dei vuoti è assolutamente personalizzabile potete gestire i margini attorno al widget sinistra sopra destra giù il default è 11 pixel quindi se voi volete usare tutto lo spazio di una finestra e ci capiterà con il notepad quando faremo il notepad a noi con il notepad ci capiterà la prima volta che facciamo il notepad che quando noi mettiamo la barra dei menu la barra degli strumenti questa tab non partono dal bordo della finestra ma partono è come se ci fosse una cornice sopra il menu sotto la barra qua a sinistra e qua a destra vuota ed è bruttissimo nessun notepad c'ha sta cornice significherà che noi dovremmo nel codice dovremmo dire caro layout che gestisci la finestra ti a zero tutti i margini così quello che metto nella finestra è appiccicato al bordo della finestra stessa poi c'è anche un problema di con quale importanza quando l'utente ridimensiona gli elementi di una finestra quando ridimensiona una finestra con quale strategia alcuni si allungano e altri no attraverso un parametro di stretch stretch che significa che se non lo uso tu non sono tutti zero lo spazio è equidistribuito quindi sono cinque pulsanti allungo la finestra orizzontalmente tutti e cinque pulsanti si allungano nella stessa entità nella stessa dimensione ma se uno di questi pulsanti c'ha uno l'altro c'ha due gli altri c'hanno uno quello che c'ha due si allungherà ad una velocità doppia rispetto agli altri quindi questo parametro serve per definire il rapporto di ridimensionamento rispetto agli altri nello stesso layout tutto qua bene è una lezione faticosa perché è davvero come fare una lista della spesa e prendere le cose sul mercato è lunga però questa lista ci serve perché la prossima volta ci divertiamo e facciamo per due ore un'applicazione da zero insieme come il notepad anzi probabilmente ci serviranno anche l'ora del giovedì quindi mercoledì notepad e giovedì prima ora sicuramente forse continuiamo il notepad che non abbiamo ottimato nel giorno precedente cosa ci manca nel carrello ci mancano le finestre di dialogo perché ci mancano perché quando noi facciamo salva con nome si apre una finestra che ci dà una vista sul file system che è una cosa tipica del sistema operativo di nuovo se io sto su linux non ho questa stessa finestra con questa grafica e che facciamo la programmiamo noi questa finestra no le finestre di dialogo sono degli elementi che il sistema operativo possiede addirittura cioè ragazzi qua intendiamoci non stiamo più parlando di grafica che imita quella del sistema operativo le finestre di dialogo sono finestre del sistema operativo quindi dobbiamo usare dei dobbiamo usare dei punti di accesso per il sistema operativo quindi un attimo sotto queste due slide vi faccio capire cosa intendo Qinput Dialog sarà una finestra di dialogo del sistema operativo in cui si inserisce una stringa QProgress Dialog in cui si mostra una barra di caricamento QMessageBox sono tutti quei messaggi in cui vi dice se d'accordo con questo salva annulla informazione warning fatal error addirittura addirittura cambia la musica c'è il suono della finestra no su Windows fatal appare proprio un'icona rossa con un suono molto brutto errore proprio irreversibile l'applicazione ha fatto qualcosa che non doveva fare e poi ci sono anche gli error message quindi sono tutte finestre che come dice la parola dialog dialogano con l'utente però il dialogo è breve ok brevi interazioni con l'utente addirittura ci sta una finestra per selezionare il colore quindi state facendo un notepad volete selezionare il colore del font Qfont Color Dialog e questa cosa verrà da il sistema operativo non lo implementate voi Qfont Dialog sceglie il font lo stile e la dimensione è una cosa del sistema operativo perché i font ce li ha il sistema operativo da qualche parte nella cartella C Windows ci sarà una sottocartella che contiene i font di sistema tra l'altro chi fa grafica non so se qualcuno di voi ha amici che fanno grafica i font non sono tutti quanti gratuiti cioè chi fa design chi fa cartellistica non stradale intendo pubblicità marketing ci sono font che costano pure 10.000 euro non sto scherzando ragazzi un font può costare anche 10.000 euro perché è un font che ha a livello del ragazzi il marketing è una scienza non è una scienza però ha a che fare con la filosofia con la psicologia ci sono dei font molto efficaci nel catturare l'attenzione degli utenti dei clienti e quindi quel font costa tanto e quindi è una cosa che uno installa nel sistema operativo poi ci sono i dialoghi per impostare la pagina prima di stamparla quindi selezionare la stampa anche questo solo il sistema operativo può sapere ma quali stampanti ci stanno che cosa possono stampare quanto è grande il foglio non è Qt e poi tutti i dialoghi per la gestione dei file apri file apri directory salva file ok quindi detto cosa sono le finestre di dialogo quindi avendo fatto questa lista diamo insomma una piccola descrizione di cos'è in generale in Qt una finestra di dialogo non solo i Qt c'è una classe classe Qdialog e servono per brevi rapide interazioni questo l'ho già detto e sono dei widget particolari che possono avere un parent quindi sono delle finestre ma se prima vi ho detto che la finestra è un widget che non ha padre le finestre di dialogo ce l'hanno il padre perché ce l'hanno secondo voi il padre perché una finestra di dialogo non può vivere separatamente dal programma che l'ha invocata cioè salva con nome che cosa salvi con nome il documento che sta aperto nella finestra che giace dietro ecco perché i widget i dialoghi devono avere un parent quando voi create un dialogo gli dovete dire spesse volte gli dovete dire che il padre è quello che l'ha creata perché se non glielo dite allora significa che è una finestra che vive a parte nel suo mondo ma non è quello il caso che ricorre più spesso possono restituire un valore sono delle finestre che restituiscono un valore perché abbiamo visto prima siccome l'utente deve fare qualcosa deve scegliere scrivere selezionare allora questa informazione deve essere restituita hanno una serie di pulsanti predefiniti perché appunto dialogo con l'utente vuoi fare questa cosa sì no ok cancella salva abort eccetera due modalità di esecuzione sincrona modale e asincrona non modale che significa asincrona che quando voi eseguite un dialogo per esempio salva su file l'esecuzione è bloccante questo è l'esempio vediamo se c'è azzecco dipende dalle scelte progettuali sto per salvare questo documento adesso io provo mentre sto salvando provo ad andare dietro e non ci riesco questo significa bloccante modale cioè finché io non ho finito di dialogare con questa finestra non posso fare altro posso certamente cancellare questa finestra di dialogo e ritornare a quello che stavo facendo ma non potevo farlo altrimenti un esempio invece di finestra di dialogo non bloccante tutte quelle che avete più o meno in photoshop nei programmi di fotoritocco avete tante finestrelle che non è che se state agendo su quella finestrella non potete fare altro potete fare più cose contemporaneamente quindi questa è la differenza ragazzi esecuzione bloccante chiamando il metodo exec e basta esecuzione invece non bloccante significa che fare questo significa che la finestra parte ma io poi vado avanti attraverso tre metodi in sequenza show mostrati raise mostrati in primo piano raise sopra quello che c'è dietro e activate window è un rafforzamento un rinforzo cioè attiva la finestra nel caso tu l'abbia creata non attiva comunque è abbastanza opzionale qual è il vantaggio e lo svantaggio di queste due cose che se si usa la modalità sincrona modale potete usare non dovete usare i segnali gli slot perché la finestra nasce per ricevere una scelta dell'utente quindi è già in attesa di quel segnale che l'utente l'utente cliccherà sicuramente su un pulsante e quindi già si è pronti per già la finestra di dialogo è progettata per ricevere questa informazione ma se la finestra invece non è bloccante l'utente può fare quello che gli pare e allora di nuovo bisogna mettersi in attesa che l'evento accada se accadrà potrebbe non accadere e quindi è necessario connettere gli slot su pulsanti non vi capita mai le finestre non modali la maggior parte delle finestre sono tutte del primo tipo modali queste sono le finestre di dialogo che abbiamo visto e queste sono le rispettive chiamate nel codice per creare le finestre di dialogo che abbiamo visto quindi per aprire un file qfile dialog get open file name ragazzi questo è una riga che da sola crea una finestra di dialogo per salvare per aprire un file in modalità modale quindi questi sono dei metodi statici di utilità che vi consentono in una sola riga di creare una finestra di dialogo che significa creare una finestra di dialogo che get open file name crea una finestra per aprire un file this parent io sono il padre quindi verrà centrata rispetto alla finestra questo è il titolo questo è il percorso predefinito c due punti per esempio e questi sono una serie di filtri che si vuole utilizzare per visualizzare solo quei file da aprire cioè l'utente non può selezionare qualunque file se io sono su word posso aprire solo doc o doc.cx e poche altre cose non posso aprire un file video in word e quindi questo è quello che devo fare ora ragazzi è inutile che vediamo queste cose adesso perché ce ne dimentichiamo perché la sintassi di queste cose io non mi ricordo nemmeno questo è come un manuale di tutte le finestre di dialogo che ci sono quando facciamo il notepad ci servirà quella finestra torniamo qua e vediamo come funziona e magari la spieghiamo anche meglio ma non è questo il momento per capire come funzionano le finestre di per capire come funziona il salvataggio come funziona l'apertura i messaggi quando ci servono noi le utilizziamo rimane solo una cosa da fare ma vi ho promesso come sempre di lasciarvi un quarto d'ora prima la facciamo la prossima volta prima di iniziare il notepad e poi ci manca poco abbiamo quasi finito fatto questo e fatto il menu c'è il notepad quindi quante slide mancano? tre slide però siamo un po' stanchi non c'è motivo di correre la prossima volta mercoledì prossimo per l'interfaccia faremo il notepad bene lezione termina qui grazie a tutti